Ma quello che predomina, senza ombra di dubbio, è quello che mi ha dato il volante Perché alla fine quello che mi ha veramente divertito, come ho appena detto, è il volante Arrivo, prima curva, freno, blocco le ruote perché non ho messo ABS Non riesco a girare ragazzi, è spettacolare Quest'oggi vi propongo un videoconfronto tra il Fanatec DD1 e il SimCube 2 Pro della Granity Device Non è un confronto tecnico o qualcosa di specifico Perché ho aspettato così tanto? Perché, devo essere onesto con voi, prima di trovare ampia soddisfazione di questo prodotto della Fanatec Che ci ho messo qualche mese Cioè tu devi curare i tuoi clienti Ma non è che ti do 1.500 e vattene a quel paese e non mi interessa quello che succede Ma stiamo scherzando Eppure ragazzi ci credo ancora in questo marchio, vi dico la verità E' che sono deluso dal comparto dell'assistenza E poverini si fanno un mazzo così, non è che dico che non lavorano E iniziate a leggere dei nomi familiari SimMagic, Mozza, eccetera, tutte queste cose qua Poi iniziate a vedere una prima postazione montata dinamica Non ho tanto discorso da fare intorno a questo qui Se non dirvi che sono veramente entusiasta Di avere la fortuna di provare una base Che si pone come concorrente diretto Non soltanto sulla sua fascia di prezzo Ma anche al di là Perché con un force feedback così raffinato Devo dire la verità Ad un prezzo così conveniente Io penso che sia stata una scelta molto intelligente Hanno lavorato veramente molto bene a questo force feedback ragazzi Bene ragazzi Dopo questa breve cronostoria di dove parte la mia esperienza sui Direct Drive E' l'ora di rispondere a quella fatidica domanda Che tutti mi fate Fabri, stiamo aspettando il video Vogliamo sapere chi è il migliore Di Diulo della Fanateco Simcube 2 Pro Qual è il migliore Quale... Facci il video confronto Facci qui e là Allora, prima di rispondere a questa domanda Vi chiedo un pollice in su Sulla fiducia E iscrivetevi al canale Perché ho notato ragazzi Che siamo il 70% che guardano i video Che non sono iscritti E il 30% che sono iscritti Quindi non vi metto i dati Fidatevi di me Quindi iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Così siete notificati ogni qualvolta Pubblico un video E lasciate un pollice in su ragazzi Dai Allora, prima di rispondere a questa domanda Che è una domanda molto importante ragazzi Vi voglio parlare del Simcube 2 Pro Allora, questa base qui ragazzi È difficile da definire Perché è stata recensita Da veramente tantissime persone Che hanno competenze altissime Che io manco gli arriva la capiglia E quindi a livello tecnico È inutile che parliamo Di quelle che sono le peculiarità Se non parlare di quel famosissimo Numeretto che interessa a tutti Quanti Newtonmeter ha E giusto dare una spiegazione Magari a chi Non ha chiaro questo concetto È che Una base Direct Drive È importante che abbia Sotto il cofono dei Newtonmeter Però Se non è filtrata Cioè se non è La potenza è nulla Senza il controllo Qua ci sta perfettamente Come diceva la Pirelli Se tu hai 50 Newtonmeter Ma tu non riesci a gestirla a filtrare Ti spezza le braccia E basta Cioè i polsi vanno A farsi benedire Quindi Qua Granity Device Devo dire che È stata veramente fortissima Perché Il lavoro fatta sui filtri Che riscoprite In questo famosissimo Software Che danno in dotazione Il TrueDrive Dove ci sono tutti questi filtri Fa un lavoro egregio Cioè vi permette Di poter prendere Delle botte Mentre prendete un cordolo Una curva Eccetera A Che so 18-20 Newtonmetri E non avere Appunto la rottura Dell'omero Mentre state guidate Ma bensì Vi restituisce Delle sensazioni Di dettaglio Che sono veramente Di altissimo livello Cioè le sentite dentro Sentite quello che sta succedendo È veramente qualcosa Di fatto Molto molto bene Ed è qui che sta La forza di Granity Device Oltre al fatto Che comunque La base è fatta Di materiale premium Si vede Si sente Alluminio Quello che è È di un concetto Di un progetto Di uno studio Veramente Fatto Da un team Che ha un'esperienza Pazzesca Che riesce a gestire i motori In modo Veramente Molto raffinato Questo è il termine Ma Se mi dovessero chiedere Fabri Come definiresti Con un solo aggettivo Questa base Senza ombra di dubbio Direi Familiarità Cioè Quello che conferisce Questa base È la familiarità Diciamo che il termine In questo caso Deve farvi pensare A Quando siamo in famiglia Ci si sente In sicurezza Ci si sente bene Ci si sente a casa C'è l'immediatezza In tutto La confidenza Che ne so Tutto quello che Uno Ha Per sentirsi Al proprio agio Ecco Quello che conferisce Questa base È questo Familiarità Quindi Non bisogna sottovalutare Questo aggettivo Bisogna vederlo Come Un concetto Molto esteso Di questo Termine Familiarità Ed è questa La forza Di questa base Ed è questa Che la differisce Da altri Perché a livello Di potenza Ne sono uscite Quelle della Asetec Che vanno anche Al di là C'è anche La sorella maggiore Come base La ultimate Sempre della Granity device E sicuramente Ci sono anche Dei motori Più anziani Che hanno Anche delle potenze Diverse Ma è proprio Conferito Da questa Capacità Di gestirla E appunto La familiarità È questa cosa Che riesce a darvi La base Quando iniziate Ad utilizzarla Perché Ci si sente Subito Ci si riesce A capire subito Quello che sta succedendo In qualsiasi tipo Di situazione Qualsiasi tipo Di simulatore Il true drive Che vi offre La possibilità Di scaricare Dei profili Elaborati Da utenti Che mettono a disposizione I propri profili Ma avete la possibilità Di poterli Creare da voi Andare a gestire Tutti quelli che sono I filtri In base alle proprie esigenze Non c'è nulla Di nuovo Ma è come funzionano I filtri Che sono Fighissimi Poi ripeto Con questa possibilità Di andarsi a scaricare I profili Già elaborati da altri È una figata Perché l'immediatezza È un qualcosa Di molto importante Per chi non ha Il tempo E la voglia Di potersi dedicare A queste cose E in più Danno anche le indicazioni Di come andare A configurare il gioco Cosa che Con altri Non è che è sempre così Bisogna andare in forum Non si vede fisicamente Ma Perché sono anche le 11 Non posso tanto fare caos In questo momento Che sto registrando Ma vi assicuro Che è una base Veramente Stratosferica Quindi se mi doveste chiedere Fabri Ne vale la pena? Sì Senza dubbio Ne vale la pena Voglio ringraziare Prima di rispondere Alla fatidica domanda Alberto Ancora una volta Per avermi dato questa Meravigliosa possibilità Di poter avere Un simcube 2 pro A casa Perché è stata Una occasione più unica Che rara Grazie Alberto Veramente E adesso Veniamo al dunque Quindi Qual è La miglior base In assoluto Tra Fanatec DD1 E Simcube 2 pro Senza ombra di dubbio È No 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 No